Le anticipazioni del segreto relative alla puntata di venerdì 8 settembre ci rivelano che dopo una perquisizione alla locanda, viene trovato del cianuro nella cassetta degli attrezzi di Alfonso. Nel nuovo episodio del segreto assisteremo all'ennesima trovata dei Miragnar, Ippolito e suo cugino Onesimo, infatti, saranno alle prese con una cassaforte. Nel frattempo la Montenegro cercherà in tutti i modi di fermare l'iniziativa politica di Raimundo. La matrona di Puentevieco da diversi giorni sta organizzando un piano per far arrestare Lulloa, ma a quanto pare i suoi collaboratori saranno contrari a questa iniziativa. Il padre di Emilia ormai è una carica importante del paese, quindi tutti hanno paura di avere delle ritorsioni. Nonostante questo Franziska non si arrenderà, e cercherà di mettere in atto un altro piano. La padrona della casona sarà certa che l'ex amante molto presto cadrà nella sua nuova trappola e commetterà prima o poi un grosso errore. Se questo avvenisse tutti gli abitanti di Puentevieco si ribellerebbero alle decisioni prese da Raimundo. Ma in questo momento l'ex host sarà molto impegnato in un'altra questione molto delicata, la lettera anonima che accusa suo genero di omicidio. Gli ultimi spoiler relativi alla puntata dall'8 settembre ci rivelano che sarà proprio Lulloa ad avvisare Alfonso della missiva. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video.